ciao amici di acqua farina e pomodoro io sono Aldo pizzaiolo allo sbaraglio vi do il benvenuto sul mio canale oggi vi farò vedere come realizzare un impasto da pizzeria utilizzando la tecnica dello slap and fold questa tecnica usata dai più grandi maestri pizzaioli e oggi la mostrerò a voi non mi resta che augurarvi buona visione e ci risettiamo alla fine del video grazie a tutti 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 a presto